inizia la settimana di oroscopando beh vabbè non è una novità ma insomma noi sappiamo tutti che voi aspettate con ansia questo momento soprattutto per spettacolare poi nelle prossime ore sui vostri seni giudiacali e confrontarli con l'amato bene beh allora questa è un'occasione adatta da questa mattina ovviamente potete vederlo questo questo oroscopo su www.spettacolandotv.it e poi da questa sera su tele tibur canale 119 del digitale terrestre da lunedì alla domenica alle ore 23 e 30 inoltre questa volta mi potete ascoltare oggi lunedì primo novembre quindi potete ascoltarmi su radio cusano 80 900 alle 8 e 45 nella trasmissione di arianna caramanti miso urbano per per questa festa ovviamente ho cambiato orario alle 8 e 45 anziché alle 7 e 25 ma se perdete l'occasione di ascoltarmi con il gioco delle coppie in questa trasmissione un giorno da ascoltare potete risentire il podcast sul profilo di paul aspri spettacolando e spettacolando in radio inoltre inoltre giovedì 4 novembre io sarò su cusano tv canale 264 nella trasmissione mattina con noi condotta da Emanuela la valente nella prima mezz'ora io dirò l'oroscopo dirò e quindi mi vedrete anche in televisione l'oroscopo di novembre quindi le anticipazioni di tutto il mese con piccole curiosità che non so dirvi mi dovete vedere insomma quindi iniziamo subito lo scopando che va dal primo novembre al 7 novembre cominciando con il segno dell'ariete che è un segno di fuoco è una settimana pesante per voi avrete spesso attacchi di malumore e l'ansia prenderà il sopravvento su tutte le cose della vostra vita inoltre la concentrazione lascerà desiderare e ve la prenderete spesso e volentieri per un non nulla con gli amici e con chi amate le incomprensioni saranno tante mi raccomando quindi ma nel weekend troverete un po di calma e cercate soprattutto di non rimangare il passato che è una cattiva consigliera in questo momento riprendete in mano la vostra vita sentimentale cercando di dare il massimo con chi amate 3s parola d'ordine incazzati toro segno di terra questa stagione non vi piace e non fa per voi siete pigri e spossati ma datevi una mossa perché vi aspettano situazioni vincenti nel lavoro se vi applicate con accuratezza non lasciando niente al caso avrete la possibilità di guadagnare ottimamente mettendo più tenacia in tutto quello che farete anche in amore richiesta la medesima attenzione con il partner avete bisogno di osare di più e di sorprendere l'altro e l'altra si aspetta molto da voi quindi cercate di non deluderlo 4s parola d'ordine impegno gemelli segno d'aria questo 2021 vi ha messo in prima linea in tutte le cose della vostra vita ma non dovete mollare però perché la settimana vi mette a dura prova specialmente all'inizio poi tutto filiera filiera liscio non scoraggiatevi e andate avanti perché i risultati si vedranno e saranno durature attenti a non sobbarcarvi di troppi impegni potreste fare tilt organizzatevi al meglio per non deludere nessuno in amore sarete coccolati e capiti ma il sesso è troppo stressante per voi in questo momento assomigliate più ad un micio in cerca d'amore 4s parola d'ordine niente tentennamenti cancro segno d'acqua la nostalgia vi fa compagnia in questi giorni forse perché avete perso qualcuno a voi caro ma non permettete che il passato ostacoli il vostro futuro perché se vi impegnate riuscirete a raggiungere ciò che volete la vostra forza e non cedere alla malinconia ma trovare nuove strade professionali qualcuno che per voi è importante questo qualcuno appunto vi darà una fonte sarà una fonte di ispirazione anche di coraggio per essere al top in amore siate più liberi da pregiudizi e dedicatevi alla libertà d'amare come un gioco senza regole 4s parola d'ordine nostalgia canaglia leone segno di fuoco avrete dei grattacapi da risolvere ma ci riuscirete senza problemi perché avete le carte in regola per raggiungere qualsiasi obiettivo se avete un rapporto collaudato da tempo è il momento di prendere una decisione o dentro o fuori perché non si può sempre tergiversare sulle rispettive libertà e regole comportamentali nel rapporto a due la fine dell'anno vi preoccupa pensate di aver realizzato poco e allora la vostra creatività metterà il turbo e potreste sorprendere voi stessi e chi vi sta vicino magari un romanzo lampo che vi faccia diventare scrittrice dei nostri giorni una persona sui social vi brama forse è il caso di dargli qualche possibilità di approccio 4s parola d'ordine creativi vergine segno di terra siete presi dalla nostalgia magari una persona a cui tenete lontana o forse momentaneamente assente dalla vostra quotidianità non fate che la malinconia diventi un impedimento al vostro vivere la noia e la poca voglia di lavorare vi fa compagnia in questi giorni ma dovete forzarvi per il vostro bene cercate di recuperare con il pat nelle weekend vi sentite soli e avete dedicato poco tempo ad amare dovete farlo per recuperare la vostra energia per la prossima settimana 4s parola d'ordine terapia d'amore bilancia segno d'aria migliorare se stessi è un dovere a cui non dovreste rinunciare in questo momento la fine dell'anno è vicina e voi come sempre fate dei bilanci ed ora non siete contenti di quello che avete impegnatevi in qualcosa che avete lasciato da parte per mancanza di voglia di fare per essere contenti di voi stessi e alleggerirvi dell'insoddisfazione l'amore va gonfie vele e voi state progettando un viaggio per ringraziare il vostro patte di tanta benevolenza nei vostri confronti 4s parola d'ordine progetti a lungo termine scorpione segno d'acqua il lavoro vi chiama e siccome il successo vi piace vi impegnerete a fare bene a conoscere persone che sono utili nella vostra professione una persona che vedete frequentemente sul lavoro vi desidera ma se siete in una situazione sentimentale stabile non cedete perché vi ritrovereste in un turbine di bugie che potrebbero essere scoperte l'amore a due specie se dura da tempo può essere rinnovato con delle sorprese 4s parola d'ordine staccano vista sagittario segno di fuoco siete belli anzi bellissimi ed è venera di avervi reso così per questo motivo potreste avere occasioni imperdibili sul fronte sentimentale oppure rendervi resistibili agli occhi del partner di sempre sul lavoro batterete la fiacca siete troppo deconcentrati per fare bene ma fate uno sforzo per fare almeno il minimo indispensabile attenti all'alimentazione potreste avere qualche disturbo 4s parola d'ordine irresistibili capricorno segno di terra siete sotto tono una storia d'amore è finita e voi vi state leccando le ferite ma dovete guardare oltre non chiudetevi in casa uscitevi uscite e fate trascinare e fatevi trascinare da nuove conoscenze o vecchi amici che vi vogliono far ritornare il sorriso attenti a chi vi consiglia qualche affare che vi porterebbe ad investire economicamente ed ora non è il momento di osare in questo senso detediatevi più a riprendere in mano la vostra vita che a fare arricchire gli altri 3s parola d'ordine sotto tono acquario segno d'aria la settimana giusta per incassare dei bei risultati nel lavoro proprio perché avete seminato bene in passato se siete single avrete modo di conoscere persone che vi osservano da tempo con interesse buttatevi e non ve ne pentirete attenti solo alle distrazioni dormite poco e siete poco concentrati durante il giorno regolarizzate il sonno con della melatonina 4s parola d'ordine insonni pesci segno d'acqua avete tante cose da sbrigare le avete rimandate troppo per pigrizia e indolenza questo vi procurerà stress e rabbia contro chi non lo merita è il partner ad essere il pungibolo del vostro nervosismo ma non è colpa di nessuno se voi siete incostanti in tutto quello che fate se siete single potreste innamorarvi a prima vista ma liberate la mente dal passato non giova per i nuovi amori 3s parola d'ordine incostanti oroscopando finisce qui questo è l'oroscopo che va dal primo novembre al 7 novembre ripeto potete trovarlo da questa mattina su www.spettacolandotv.it e da questa sera su teletibur canale 119 del digitale terrestre da lunedì alla domenica alle ore 23 e 30 e anche in streaming su www.teletibur.it l'appuntamento è questa mattina alle 8 e 45 su radio Cusano 89 100 ma se perdete l'occasione di ascoltarmi con il gioco delle coppie potete riascoltare rivolgere il nastro dico riascoltarmi con il podcast sul profilo di Paola Aspri spettacolando e spettacolando in radio inoltre con l'oroscopo in novembre ci vediamo giovedì 4 novembre su Cusano tv nella trasmissione una mattina con noi condotto da Emanuela Valente dove vi dirò tutti i segreti dell'oroscopo di novembre mi raccomando non perdete l'occasione canale 264 anche questo si può riprendere da youtube poi vi darò delucidazioni sui social dove sono abbastanza attiva sia su facebook che su instagram io vi do un augurio di buona settimana a tutti quanti buono roscopando da Paola Aspri ciao a tutti